Niente ruota panoramica ma sì alla pista di ghiaccio più grande della Toscana. È arrivato dalla soprintendenza di Arezzo e così la città di Natale si arricchisce di un'altra iniziativa. Una pista all'aperto molto grande, forse la più grande che c'è in Toscana, quindi stiamo cercando di lavorare per allestire il prato in modo particolare anche a livello di luci, quindi sarà molto suggestiva. Quindi non c'è la ruota, non importa, c'è tante altre cose. Sì, infatti io l'ho definito il Rockefeller Center di Arezzo, scherzosamente, però è una di quelle zone di Arezzo che è un po' dimenticata, quindi credo che grazie all'utilizzo di un'attrazione sia lì che in fortezza con il Laboratorio degli Elfi, ma soprattutto collegando tutto con un trenino per aiutare gli aritini a fare quella salita che tanto odiano, probabilmente si riesce a animare anche una zona bellissima di Arezzo che è un po' dimenticata. Babbo Natale? Babbo Natale ce ne saranno più di uno. Grazie.